Questa sera parliamo di insegnamento della religione cattolica. Ne parliamo con Andrea Azzeni, che è un insegnante che ha scritto anche alcuni articoli su giornali telematici, come tecnica della scuola Orizzonte Scuola, e che è un, credo che lo possiamo definire, un militante laico, un attivista che si occupa di laicità anche nella scuola. E vorremmo con lui fare una serie di incontri per approfondire il tema dell'insegnamento della religione cattolica, mettendo in evidenza innanzitutto cosa non è, perché circolano spesso delle idee distorte su ciò che sarebbe l'insegnamento della religione cattolica, poi anche come affrontarla, come organizzarsi, come attivare le alternative all'insegnamento appunto della religione cattolica, e infine fare anche delle considerazioni di carattere più generale sulla scuola, sul principio di sussidiarietà con cui la dottrina sociale, ma non solo, tende a privatizzare la scuola pubblica, anche attraverso la scuola cosiddetta paritaria, e cercheremo appunto di fare un discorso un po' in generale sulla religione e la scuola, al limite anche con qualche comparazione con il dialogo interculturale, con quello che succede per le altre religioni. Comunque, l'argomento di questa sera è cos'è l'insegnamento della religione cattolica, a partire da cosa non è. Arciatea è un'associazione che si propone di diffondere il pensiero laico, razionalismo scientifico, ne fanno parte atei, agnostici e razionalisti, cerca di collaborare con altre associazioni affini e complementari, ed è molto felice di trovare questa sera Andrea Zeni, che ci aiuterà a capire cos'è l'insegnamento della religione cattolica. Quindi io partirei subito dandogli la parola, chiedendogli come è nato il suo impegno su questo argomento, a chi si è rivolto, insomma che esperienza ha avuto e come si è formato un'opinione e anche un'esperienza e ha avviato delle iniziative su questo tema. Bene, a te Andrea, a te la parola. Grazie. Sì, vi devo anzitutto ringraziare per aver dato spesso visibilità a queste lettere che appunto ho mandato a queste testate che si occupano di questioni scolastiche, come la tecnica della scuola o orizzonte scuola. Sì, sono delle lettere, cioè io non sono un collaboratore, lì non ho scritto degli articoli. Perché intervengo? Io in realtà non sono un esperto, sono un docente, poi ovviamente dell'insegnamento della religione a scuola, quindi posso sentire un po' quello che mi capita di origliare un po' a scuola e poi ovviamente ho la mia memoria di quando ero a mia volta studente. E ogni tanto mi capita appunto, ad esempio in queste testate scolastiche, di trovare degli interventi da parte di apologeti dell'insegnamento della religione cattolica. Ad esempio esiste un vero e proprio sindacato degli insegnanti di questo settore e anche appartenenti di altri sindacati spesso intervengono a favore dei lavoratori di questo settore, quindi degli insegnanti di religione. Dovendo in qualche maniera pubblicizzare questo insegnamento, ne sottolineano quelli che ritengono essere gli aspetti positivi. Solo che spesso, magari in una certa misura in buona fede, dicono delle cose che non sembrano tanto corrispondere al vero. E allora in questi casi mi sento un po' invitato a scrivere una lettera. A volte veramente mi sembra di ridire sempre le stesse cose, di ridirle inutilmente perché è molto raro che qualcuno risponda. A volte qualcuno risponde nella stessa rubrica delle lettere, però poi quando di nuovo questi rappresentanti sindacali prendono la parola intervistati dai giornalisti della testata oppure addirittura sono invitati a scrivere dei testi, ripetono le stesse argomentazioni come se non si fosse già obietato e sarebbe se non altro buona educazione prendere in considerazione le obiezioni che sono state scritte. Cioè cosa dicono in genere questi rappresentanti degli insegnanti di religione? Dicono che l'insegnamento della religione cattolica che è un insegnamento come tutti gli altri, che è una materia alla pari delle altre, sostengono che non sia un insegnamento confessionale. In genere l'argomento che utilizzano, che è un argomento appunto come dicevo prima, in parte vero, dicono che non è catechismo. Su questo si potrebbe tornare, perché certo in parte è vero, però io ad esempio non ho mai scritto che è catechismo e mi pare nessun altro tra quelli che obiettano a questo insegnamento nella scuola pubblica abbia mai tentato di spacciarlo per catechismo. Vabbè, sostengono che non è catechismo, che è veicola dei contenuti culturali, questi contenuti culturali sono considerati utili anche alla comprensione delle altre materie, oltre che alla comprensione ovviamente della nostra storia che è permeata anche dalla religione, in particolare ovviamente dalla storia della Chiesa e quindi dal cristianesimo, dal cattolicesimo. Anche qui ci sono degli argomenti in parte plausibili, ma appunto bisognerebbe tornarci con precisione. Sì, appunto, ovviamente uno dei contenuti che dovrebbero essere veicolati da questo insegnamento, visto che la materia si chiama insegnamento della religione cattolica e non religione, come alcuni dicono erroneamente, oppure forse solo per brevità, innanzitutto si presume che gli studenti che seguono questo insegnamento apprendano soprattutto che cos'è il cristianesimo, qual è la sua storia, in particolare nella varietà del cattolicesimo. Infatti devo dire che una delle prime volte in cui mi è capitato di scrivere di questo argomento fu diversi anni fa, quando insegnavo in un liceo a Varese, e feci una specie di indagine tra i miei studenti. Per vedere, lì devo dire, molti studenti, soprattutto in terza, seguivano l'insegnamento della religione cattolica, via via che si avanzava negli anni, sempre un po' meno. Però voglio dire, lì avevo molti più studenti che seguivano questo insegnamento di quanto non stia vedendo invece ad esempio a Milano. Molti studenti seguivano questo insegnamento e quindi in teoria io mi aspettavo conoscessero meglio degli argomenti della storia del cristianesimo, che magari avevano anche delle intersezioni con le mie materie, quindi con la storia, con la filosofia. Avevo fatto girare un vero e proprio questionario, in quel periodo stavo parlando della patristica, dell'inizio della filosofia cristiana, e invece mi ero accorto che non avevano alcuna idea dei dogmi. Ad esempio, se interpelli uno studente delle scuole superiori che segue l'insegnamento di religione cattolica e gli chiedi chiarimenti, non so, sulla Trinità, sulla natura di Gesù, la sua natura divina, sui dogmi mariani, sui miracoli, sulla transustanziazione, sul significato quindi dell'Eucaristia o robe di questo tipo, invariabilmente ti dice delle corbellirie, dice più o meno le cose che ti direbbe un uomo incontrato così per strada e se lo inviti a spiegare, in genere non riesce a spiegare questi contenuti. Quindi una cosa che direi si possa escludere subito, abbiamo intitolato questo incontro che cosa non è l'insegnamento della religione cattolica, non è un insegnamento della religione cattolica, cioè gli studenti che seguono questo insegnamento non sanno mediamente molto di più sulla religione cattolica di quello che sa il comune uomo della strada. Da quello che riesco a capire, durante le lezioni di questa materia non si parla granché di questi contenuti, ma lineamente qualche amico mi ha detto beh, certo, se passassero tutte le settimane un'ora a parlare di questi argomenti gli studenti si annoierebbero, si stufferebbero, poi se venissero addirittura interrogati su queste questioni qua, che a loro non interessano, lascerebbero subito l'insegnamento della religione cattolica. Infatti dicevo, spesso l'obiezione è che l'ora di religione non è un'ora di catechismo, e dicevo, bisogna chiarire questa obiezione perché io da bambino sono stato mandato in chiesa, andavo in parrocchia, eccetera, ho fatto la comunione e anche la cresima, la cresima ha dieci anni, quindi ho seguito il catechismo per fare la comunione, per fare la cresima. Mi ricordo che il catechismo consisteva, sì, si faceva un po' di conversazione col prete che ci teneva a queste lezioni, eravamo invitati a mandare a memoria tutta una serie di contenuti, di cui non capivamo quasi nulla. Quindi, certo, se oggi si dice che l'ora di religione a scuola non è ora di catechismo, sicuramente non è catechismo in questo senso, cioè gli studenti che seguono quest'ora non sono invitati a mandare a memoria dei preceti, delle definizioni, delle proposizioni ritenute dalla Chiesa dei dogmi, non sono invitati a fare questo, ma essendo più grandicelli uno potrebbe dire beh, magari sono invitati a riflettersi, a capire perché la Chiesa sostiene che una certa affermazione è un dogma, un'altra invece è un'eresia, eccetera. No, ma non parlino neanche di questo, perché ad esempio in storia per forza parliamo della nascita della Chiesa ortodossa, parliamo della nascita delle Chiese protestanti. I miei allunni, anche quelli che seguono l'ora di religione non ne sanno di più degli altri e molte cose le apprendono dal libro di storia. Quindi anche quando gli apologetti dell'ora di religione dicono che l'insegnamento è utile per capire ad esempio la storia, la storia dell'arte, la letteratura, la musica, perché ci sono ovviamente tanti artisti, tanti letterati che si sono ispirati e ci mancherebbe altro, nessuno lo può negare, si sono ispirati o alla loro fede o comunque a dei temi biblici anche perché in molti periodi i committenti erano degli importanti prelati che si potevano permettere di finanziare appunto opere architettoniche, artistiche, eccetera, oppure molti letterati da Dante Alighieri e Manzoni, eccetera, erano loro stessi, ci mancherebbe, permeati da una forte fede, uno potrebbe dire beh, allora se se fai l'ora di religione magari capisci meglio i loro riferimenti religiosi, ma non è affatto così, anzi io ho l'impressione che sia proprio l'opposto, cioè che gli studenti sappiano qualcosa della storia della religione e dei contenuti della religione cattolica, anche delle differenze tra cattolicesimo e altri rami del mondo cristiano, magari a volte di altre religioni come l'Islam, l'ebraismo, eccetera, studiando le altre materie, perché ad esempio se hai un buon insegnante di storia dell'arte magari ti spiega cos'è la transustanziazione, ti spiega che cos'è l'assunzione al cielo di Maria, perché sono dei soggetti di importantissime opere d'arte di grandi artisti, quindi se l'insegnante non è proprio un ignorantone magari allude anche al contenuto di queste opere. Sì, e questa è sicuramente un'obiezione. Ad esempio, adesso mi torna in mente che appunto quando feci questa sorta di inchiesta tra i miei alunni di Varese mi ispirai a un articolo che era uscito su Avvenire, quindi sul giornale della CEI, dei Vescovi, ed era firmato da Carnero che è uno studioso di letteratura che mi pare abbia scritto anche dei manuali scolastici, ma poi ha scritto dei saggi su autori contemporanei ed ero riuscito a entrare in contatto con lui e lui a sua volta mi aveva messo in contatto col direttore di Avvenire, e quindi era uscita una mia lunga lettera su Avvenire e molto gentilmente appunto il direttore l'aveva proposta ai suoi lettori. Non aveva tanto risposto alle mie domande ma le aveva proposte ai lettori poi qualcuno aveva anche risposto. E appunto tra le questioni che ponevo era proprio questa, cioè quali sarebbero questi contenuti in più che lo studente dovrebbe apprendere, contenuti culturali intendo, contenuti culturali che lo studente dovrebbe apprendere in più rispetto a quelli che impara già durante le ore delle altre materie, dei contenuti in più che però dovrebbero arricchire il suo patrimonio culturale. Nessuno mi ha mai risposto a questa domanda, eppure c'è sempre questo refrain, ogni volta che si parla dell'ora di religione si dice che è utile a capire le altre materie, che arricchisce il patrimonio culturale dello studente, che gli permette di capire la nostra storia, però poi se vai a chiedere concretamente quali sono questi contenuti nessuno te lo sa dire. E ripeto, non sono neanche questi contenuti banalissimi, uno potrebbe dire non so, sull'Eucaristia Lutero si è scontrato con la Chiesa, qual era il motivo del contendere? Non te lo dicono. Anche qui tornando all'obiezione maliziosa che dicevano prima, probabilmente se durante l'ora di religione a scuola l'insegnante dicesse allo studente che secondo la Chiesa l'ostia nonostante le apparenze è veramente corpo di Cristo, lo studente avrebbe qualche perplessità. Infatti gli studenti da me interpellati dicevano che era un modo di dire, che era un'affermazione simbolica, che la messa serve solo a ricordare il gesto di Cristo che si era raccomandato di fare quei suoi stessi gesti in memoria sua e allora si obbedisce a questo precetto e si ricorda quello che aveva fatto lui durante l'ultima cena. Ma la Chiesa non dice questo, questo anzi lo diceva Lutero, anzi neanche Lutero lo dice magari Calvino perché per Lutero c'era comunque la consustanziazione. Però se tu chiedi allo studente cosa è la transustanziazione, cosa è la consustanziazione, che cosa è il significato meramente simbolico della messa, lo studente ovviamente non ti sa rispondere mediamente. Se sa qualcosa è perché magari appunto sul libro di storia quando ha studiato Lutero quindi la la rottura dell'unità del mondo cristiano in Europa è un momento molto importante, magari c'è qualche scheda che a volte è fatta bene, a volte è fatta male devo dire anche sul libro di storia, però magari c'è questo argomento e lo studente ha l'opportunità di approfondirlo. ma a quanto pare durante le ore di religione non vengono assolutamente veicolati questi contenuti quindi non so forse qualcuno quando dice che l'ora di religione a scuola non è catechismo forse vuole dire proprio questo che in realtà lo studente non apprende nulla dei contenuti tipici della religione cattolica allora uno potrebbe chiedersi appunto che altro si faccia durante queste ore ad esempio io ricordo che quando ero studente e ho fatto in tempo a essere studente al liceo proprio negli anni in cui c'era stato il nuovo concordato di Villa Madama quindi si passava dal vecchio concordato fascista a quello diciamo di Bettino Craxi e di Casaroli c'era stato un piccolo cambiamento però più o meno almeno ai miei tempi le ore di religione non avevano subito nessun cambiamento e in cosa consistevano aveva un prete anche simpatico che ci teneva a queste lezioni e parlava in generale di attualità probabilmente la sua idea era dimostrare come la chiesa cattolica avesse delle risposte per l'uomo contemporaneo però non c'era un vero e proprio programma quindi un giorno parlava dell'aborto un giorno parlava della droga poi era questo sacerdote convinto dell'esistenza dei fenomeni paranormali era un tema su cui tornava molto solo che li assimilava a degli interventi del demonio quindi metteva in guardia gli studenti molto su queste questioni però erano ore così di chiacchiere poi magari l'insegnante di religione atteggiandosi a saggio che ti poneva delle domande particolarmente profonde ti chiedeva qual era il tuo scopo nella vita che significato che significato dessi alla tua vita quali erano i valori più importanti però si parlava così non c'era un vecchio un vero e proprio programma non c'erano assolutamente dei contenuti culturali che si che si apprendessero c'era diciamo questa operazione un po' buonista un po' di di propaganda per cui la chiesa dialoga col fanciullo e lo illumina sui problemi contemporanei stavo cercando di ricordare quello che è successo a me tantissimi anni fa e mi ci ritrovo mi pare che il succo di quest'ora di religione non sia non sia cambiato sia più come dire l'affermazione di una presenza della necessità di un'autorità morale rappresentata dalla chiesa che non appunto la spiegazione di una dottrina che semmai viene fatta nei corsi di catechismo che si fanno all'oratorio o da altre parti il fatto che parlino un po' di tutto come succedeva anche tantissimi 60 anni fa a me era un parlare di tutto per dire noi siamo capaci di parlare di tutto siamo necessari siamo un'autorità morale appunto e questo pone dei grossi problemi in linea di principio alla laicità dello Stato perché un ateo perlomeno dal mio punto di vista riconosce che tutti sono liberi di esercitare la loro religione ma non si capisce perché la devono esercitare attraverso costruendo una presenza politica appunto sulla scena pubblica quindi sì con tutte le differenze tra quello che succedeva una volta in cui quando l'autorità era più salda e oggi che invece prevale una religione bassa intensità però la sostanza mi sembra che ci sia una continuità non non c'è un intervento diretto come giustamente dicevi tu non spiegano aspetti filosofici dottrinari storici eccetera eccetera ma affermano che loro sono un'autorità morale capace di spaziare su tutti gli aspetti della vita perché il sacro sarebbe una dimensione ineliminabile che richiede la loro presenza in quanto intermediari quelli che spiegano illustrano favoriscono appunto il rapporto con il sacro è così sì allora io appunto adesso ho fatto riferimento alla mia esperienza da ragazzo oppure all'idea che mi posso essere fatto sentendo così qualche studente poi ovviamente non so bene magari ci sono invece dei docenti che seguono un programma regolare portano anche dei testi discutono non lo so però ad esempio sono pubblici ovviamente i programmi ministeriali di questa materia no ad esempio anche qui un'obiezione a quelli che dicono che l'insegnamento della religione è una materia come tutte le altre non è una materia come tutte le altre perché se vai a prendere ad esempio il programma di storia il programma di storia si basa sui risultati che la comunità scientifica degli storici ha prodotto e se vai a leggere il programma è ispirato a quello che trovi nei manuali anche universitari ovviamente il programma scolastico è un po' più sintetico poi ovviamente il docente può fare le sue scelte ci mancherebbe non riuscirà mai a fare tutto il programma però si deve ispirare a quei programmi se no è ovvio che sta dicendo delle corbellerie e ha anche dei testi che spesso sono scritti addirittura proprio da docenti universitari che certo sanno di rivolgersi a dei ragazzi quindi magari usano un linguaggio un po' più semplificato invece nel caso della religione se vai a vedere i programmi dell'insegnamento della religione cattolica sono dei programmi scritti in combutta tra il ministero e la CEI quindi sono scritti con un'autorità religiosa cioè voglio dire non sono il frutto per dire all'università nelle normali università laiche esistono degli insegnamenti di storia della religione di storia della chiesa oppure non so ci sono filosofi che studiano la patristica c'è che si occupa di antropologia della religione esistono degli studiosi che laicamente studiano questi fenomeni e portano delle argomentazioni che ovviamente possono essere dibattute all'interno della comunità degli specialisti ma i programmi di religione non attingono a quel tipo di saperi lì quindi se si va anche a leggere il programma dell'insegnamento di religione cattolica è prima di tutto estremamente generico poi è tutto imperniato sulla religione cattolica quindi quelli che insistono e dicono che è ora di religione che si parla delle religioni in generale non è vero perché è tutto incentrato sulla religione cattolica ma non è appunto né un insegnamento storico né antropologico è un insegnamento dogmatico cioè si parte dall'idea che l'uomo abbia nel suo cuore questo anelito verso il divino che gliel'ha messo Dio stesso che attenzione è lo stesso incipit del catechismo della chiesa cattolica se andate a vedere il catechismo della chiesa cattolica inizia proprio così quindi ognuno di noi ha nel suo cuore questa tensione il programma di religione ti deve spiegare come la risposta giusta sia quella cristiana in particolare quella cattolica e lo sviluppo di questo discorso è un po' di tipo storico un po' vorrebbe essere un chiarimento un'illuminazione circa la natura umana e poi specie nel finale si toccano questioni legate al mondo contemporaneo perché c'è sempre l'idea che appunto la chiesa intervenga sui grandi dilemmi morali o su questioni che poi hanno anche ricadute politiche quindi capita che tocchino il problema non so dell'immigrazione o dei diritti degli omosessuali insomma possono essere toccati gli argomenti più vari io infatti per approfondire questa questione anni fa ero anche andato a vedere alcuni manuali in adozione nei licei ero andato proprio a vedere tra i manuali di adozione quali erano quelli più diffusi me ne ero procurati 4 o 5 e li avevo letti quasi completamente riprendono più o meno questo canovaccio che dicevo prima cioè prima c'è la pseudo spiegazione di che cos'è la religione come nasce ci sono accenni alle altre religioni spesso si dice durante l'ora di religione però si parla anche delle altre religioni ma è una parte estremamente striminzita tipo una paginetta per ogni religione ovviamente si parla soprattutto di quelle monoteiste lì uno potrebbe dire ha anche un senso dal punto di vista storico ok però non venitemi a dire che si fa un'antropologia una fenomenologia della religione no il discorso principale è quello sul cristianesimo poi le altre religioni vengono toccate nella misura in cui si rapportano a questa e ovviamente la storia principale è proprio quella del cattolicesimo sì potrei parlare di questi manuali anche lungamente perché anche questi sono stranissimi cioè quando si dice che l'insegnamento della religione è uguale alle altre materie che non è vero si capisce anche guardando i manuali no come dicevo prima i manuali delle altre materie sono scritti spesso da luminari di quelle discipline no io mi ricordo che non so al liceo avevo il Salinari di storia della letteratura adesso uno il taglio di Salinari potrebbe piacere o meno però Salinari era un importante docente di questa materia all'università oppure avevo non so il Lombardo Radice di matematica lo stesso Lombardo Radice era un famoso matematico anche divulgatore invece chi sono gli autori dei libri di religione uno potrebbe dire saranno degli storici della religione degli antropologi della religione no se andate a vedere chi sono questi signori è rarissimo che siano docenti universitari quando insegnano all'università per lo più insegnano in università cattoliche e hanno degli insegnamenti che hanno a che fare con l'insegnamento della religione cioè è tutta una sorta di circolo vizioso cioè si occupano di pedagogia della religione materie di questo tipo è rarissimo mi era capitato se un caso di un manuale dove tra gli autori c'era una donna che invece insegnava almeno storia del cristianesimo storia della patristica roba del genere in genere appunto non sono dei grossi studiosi e poi al di là del curriculum dello studioso sono lì cioè io perlomeno ho visto i manuali in adozione nei licei sono libri di una poerilità incredibile cioè se io nel triennio prendo un manuale in adozione di storia di storia della letteratura di fisica di matematica si rivolgono a delle persone mature magari non delle persone adulte però dei ragazzi che sono quasi maggiorenni e fanno un discorso di una certa elevatezza voglio dire i contenuti che ci sono nel manuale di storia della letteratura non sono diversi da quelli che troverebbe lo studente se studiasse all'università magari sono un po' semplificati un po' quantitativamente minori però il discorso è di quel tipo invece i discorsi che si trovano nei libri di storia cioè nei libri di religione cattolica sembrano rivolgersi a non lo so a dei bambini sono innanzitutto anche solo a sfogliarli sono dei libri pienissimi di illustrazioni spesso le pagine hanno metà due terzi della pagina è coperta da un'illustrazione che in genere è tesa ad attirare l'attenzione dello studente i testi sono estremamente elementari non hanno bibliografia cioè normalmente se 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 si prende un manuale di scuola superiore fa riferimento alla letteratura scientifica direttamente o indirettamente questi libri invece non si sa bene da dove attingano i contenuti ehm ah poi ecco una cosa stranissima hanno l'imprimatur cioè uno non crederebbe che oggi nel nel 2000 ci ci circolino ancora dei libri con l'imprimatur devono avere l'autorizzazione del vescovo devono avere il si stampi l'imprimatur e il nulla osta del vescovo cioè quindi anche se hanno degli autori specifici dobbiamo tener conto che hanno l'imprimatur e quindi di fatto sono emanazione dell'autorità religiosa perché se non andassero bene i contenuti ovviamente non ci sarebbe l'imprimatur infatti al di là delle differenze dell'uno con l'altro hanno sostanzialmente tutti la stessa impostazione e come dicevo partono da quest'idea che appunto nell'animo di ciascuno di noi alberga questa attenzione verso l'infinito che questo infinito sia Dio Dio proprio al singolare con la D maiuscola e così via se invece qualcuno di noi va a aprire un manuale di antropologia della religione ad esempio negli ultimi anni si sono sviluppati molti studi basati sulla psicologia cognitiva di impostazione evoluzionistica la spiegazione del fenomeno religioso non è assolutamente questo cioè questa è una spiegazione dogmatica il libro di religione ti dice che dentro di te c'è la tensione verso Dio e la risposta a questa tensione è ovviamente Dio in particolare il Dio della Bibbia ma ovviamente è un circolo vizioso inventato cioè la domanda è strutturata per dare quel tipo di risposta ma non c'è nessuno studio di tipo psicologico antropologico che documenti che in tutte le persone quando nascono o in tutti i popoli che non hanno avuto contatti culturali tra di loro sia presente questa tensione ma anche se fosse presente sarebbe semplicemente un dato non lo so di tipo psicologico non sarebbe comunque una prova che c'è Dio che è stato Dio a mettere questa domanda o che Dio sia la risposta giusta infatti negli studi ad esempio di tipo antropologico si spiega perché adesso sto dicendo si spiega ovviamente è un'ipotesi uno mi potrebbe dire magari è un'ipotesi poi sarà superata ok ma c'è uno sforzo laico scientifico di spiegare perché siano nate le religioni perché le religioni abbiano avuto successo nella storia perché siano risultate funzionali ad esempio alla sopravvivenza di certe popolazioni sì se ne potrebbe anche parlare ci sono questo tipo di spiegazioni ovviamente se apri libri di religione anche nella parte riservata al sentimento religioso in generale non si parla di queste cose ovviamente se fosse un insegnamento veramente non confessionale teso a spiegare il fenomeno religioso che è sicuramente importante si dovrebbero spiegare queste cose magari anche altre teorie però perché non mi spieghi queste cioè è questa la cosa strana comunque poi c'è tutto uno sviluppo un po' storico e uno potrebbe dire beh almeno c'è la storia della chiesa la storia del cristianesimo allora vi assicuro che se andate a leggere i contenuti di storia della chiesa che si trovano nei libri di religione cattolica c'è meno di quello che si trova nei libri di storia cioè nei libri di storia ovviamente ripeto durante le ore di storia non si riesce a completare il programma a fare tutto tutti i contenuti dell'IVA però se uno fosse interessato a quei contenuti c'è spesso di più nei libri di storia o nei libri di storia della filosofia che non nei libri di religione cattolica poi da un autore all'altro sì ci possono essere degli aspetti che hanno magari che vengono rimarcati maggiormente però in genere non ci sono molti contenuti anche perché questi libri sono estremamente smilzi cioè in genere è previsto un manualetto per tutti i cinque anni delle scuole superiori se voi dividete il numero delle pagine di questo singolo manualetto per tutte le ore di religione certo ce n'è solo una alla settimana però le settimane sono molte e cinque anni non sono pochi praticamente risulta che per ogni ora di religione si fa magari una paginetta due c'è nessuna materia ovviamente la manualistica è tale da creare una proporzione di questo tipo poi ripeto anche nelle altre materie ovviamente non studi tutto il libro però voglio dire i contenuti sono veramente striminziti e anche le conoscenze storiche che il libro potrebbe che lo studente potrebbe ricavare dal manuale di religione sono dei contenuti scarsissimi c'è ben poco che non si trovi già nel programma di storia e poi soprattutto è tutto in chiave apologetica cioè quando noi studiamo la storia i rapporti della religione con grandi eventi storici non so studiamo le crociate studiamo le guerre di religione studiamo la persecuzione degli eretici uno potrebbe dire studiamo tutte cose brutte ma certo sappiamo anche come dicevo che ci sono stati dei prelati grandi mecenati di artisti sappiamo che ci sono stati anche uomini di fede che hanno lottato per la pace per aiutare gli umili ci mancherebbe ci sono anche queste cose ovviamente anche nel libro nel libro di storia c'è la storia del francescanesimo eccetera robe di questo tipo però voglio dire libri di religione cattolica sono estremamente superficiali e sono acritici sì magari c'è il riferimento alle crociate ma così superficiale non si ad esempio non si parla della persecuzione degli eretici oppure dell'antisemitismo cristiano poi quando si arriva al novecento ci si arrampica veramente sugli specchi per spiegare i rapporti tra la chiesa i grandi totalitarismi in particolare col nazismo col fascismo con gli altri regimi simili che c'erano in giro per l'Europa in Spagna in Portogallo in Austria e così via cioè sembra quasi che la trattazione storica dei libri di religione sia fatta apposta in modo da avere un controcanto a quello che lo studente legge nel libro di storia normale siccome nel libro di storia normale vede la chiesa protagonista soprattutto di malefatte e allora serve evidentemente una materia di compensazione che spieghi le stesse cose da un altro punto di vista e in alcuni casi ci sono proprio censure forzature poi a parte questi contenuti storici poi ogni tanto appunto si toccano questioni come dicevo prima del tipo i rapporti tra la fede e la religione ma anche questi sono risolti con una superficialità incredibile si tratta di solito non so il processo a Galileo oppure i rapporti tra la fisica contemporanea e tra il rapporto tra il creazionismo e il darwinismo oppure tra la cosmologia contemporanea e tra il Big Ben e diciamo la creazione dell'universo ma è tutto fatto in forma di raccontino con finalità apologetica e con tantissime sciocchezze cioè è di veramente dovremmo leggere delle parti è incredibile cioè che ha degli studenti di scuola superiore che normalmente studiano ripeto programmi di fisica di un certo livello programmi di storia di un certo livello gli si sottopongano poi queste considerazioni che non sono possono essere assimilati forse certe pubblicazioni popolari di tipo religioso rivolte a persone poco istruite perché veramente il livello appunto è veramente bassissimo ecco noi beh intanto chi vuole intervenire lo faccia o si prenoti come come preferisce noi poi in seguito magari nel prossimo incontro programmato analizzeremo anche le modalità per intervenire sull'argomento per tutelare gli studenti che non vogliono aderire all'insegnamento della religione cattolica eccetera ecco stasera che è dedicata a capire più cosa non è abbiamo visto possiamo approfondire ulteriormente ma mi pare che già risulta chiaramente che non esiste un contenuto l'argomento che si forniscono delle idee che sono utili allo studente ha un senso solo se uno ha già aderito all'idea religiosa che esiste un rapporto con il sacro con la divinità che non non se ne può fare a meno e che questo deve fornire l'impostazione di tutta la propria vita ma dal punto di vista politico sia da un punto di vista concettuale che da un punto di vista storico è proprio un'affermazione di potere dal punto di vista storico come diceva Andrea abbiamo visto come si è affermata la religione cattolica dopo la modernità che aveva avviato i processi di secolarizzazione sono stati fatti degli accordi concordato con il regime fascista con quello nazista con altri che servivano appunto a uno scambio la religione cattolica manteneva una presenza privilegiata nella società e d'altra parte il fascismo del 29 il nazismo del 33 e gli altri regimi quando hanno fatto gli accordi trovavano una legittimazione da parte da parte della della chiesa ecco questa questa cosa sta cambiando molto perché a seguito in particolare della globalizzazione eccetera eccetera le migrazioni hanno aumentato notevolmente pluralismo religioso quindi stride ancora di più che ci sia un istituto che privilegia una una religione e non sarebbe necessario uno potrebbe capirlo anche se applicasse un minimo di principi di laicità dello Stato sulla base dell'Essi Deus non deretur già dovrebbe essere sufficiente ma ha maggior ragione è una società che è sempre più articolata perché tutte le ricerche dicono che aumentano gli atei gli agnostici e si differenziano aumentano le diverse confessioni religiose e gli stessi che si dichiarano cattolici si articolano moltissimo le ultime ricerche e ci dicono che anzi forse l'aspetto più significativo non è solo e tanto l'aumento degli atei e degli agnostici ma il fatto che gli stessi cattolici adottano una religione a bassa intensità cioè il postmodernismo diciamo ha colpito anche il pensiero religioso la chiesa cerca di mantenere una presenza istituzionale una presenza diciamo un nucleo dottrinario che è rigidissimo e nessuno cambia ma anche molta attenzione come se fossero dei cerchi concentrici e quello più esterno è quello che della della propaganda del marketing su questo Papa Bergoglio è bravissimo nel senso che senza cambiare di una virgola la dottrina riesce a dare un'impressione del cattolicesimo come qualcosa che è estremamente aperto poi se uno vuole leggere quello che scrive scopre che è come se ci fossero tanti target ad alcuni si legga la sua interpretazione della la sua lettura del Vangelo insegna delle cose che tipo l'obbedienza è una grande virtù in particolare le donne seguire l'esempio dell'obbedienza della sottomissione da altre parti invece va a sostituire il campo della politica anche a causa della crisi della politica il campo che gli viene lasciato aperto tutto questo lungo e noioso discorso per dire che se era discutibile il fatto che ci fosse un accordo nel 29 quando la religione cattolica era praticamente l'unica in Italia perché tra negli ebrei e poco altro non c'erano confessioni religiose diffuse oggi che invece c'è un pluralismo e una secolarizzazione avanzata è ancora ancora più più assurdo non si capisce perché stia ancora in piedi questo insegnamento della religione cattolica c'è qualcuno che vuole intervenire riprendi tu la parola Andrea rispetto a quello che dicevi tu tra l'altro c'è sempre un aspetto importantissimo da sottolineare cioè quelli che difendono l'insegnamento della religione cattolica dicono appunto come abbiamo ricordato all'inizio che è una materia come tutte le altre deve avere dignità come tutte le altre però se si va a vedere anche le norme vigenti di fatto non la trattano assolutamente come una materia come tutte le altre infatti prima di tutto è facoltativa cioè se si trattasse semplicemente di veicolare dei contenuti culturali sia pure mettendo un particolare accento su quello che è successo in Europa quindi trattandosi di religione dando particolare spazio al cristianesimo al cattolicesimo eccetera non si vede perché la materia dovrebbe essere facoltativa se poi veicolasse tutti questi contenuti utili anche ad apprendere meglio le altre materie a capire la storia a capire altre materie soprattutto di tipo umanistico ma poi a volte gli apologetti dicono anche per rispondere alle questioni etiche poste dalla scienza o ai rapporti tra la fede e la scienza insomma tutte queste questioni qua ma se fossero trattate seriamente perché la materia dovrebbe essere facoltativa adesso qualcuno mi può dire beh così stai dando un suggerimento per quelli che la vogliono rendere obbligatoria no in realtà si è stabilito da tempo che fosse facoltativa perché è evidente che è un insegnamento confessionale quindi per quanto ce lo vogliono mascherare o presentare sotto mentite spoglie è evidente che è una materia confessionale infatti perché è facoltativa perché c'è di mezzo una questione di coscienza lo dicono tutte le normative in merito cioè si dà per scontato che quando uno sceglie o meno questa religione questa materia sta facendo una scelta di tipo religioso e quelli che difendono questa materia dicono sì ma non è detto che per fare religione devi essere cattolico ci mancherebbe le tue opinioni di fede la scuola non te le può mica chiedere quindi se tu le vuoi dire ci mancherebbe però nessuno ti può dire ah sei cattolico quindi ci mancherebbe non c'è un automatismo in questo senso infatti molti dicono eh ma a volte seguono l'ora di religione anche quelli che vengono da altre da famiglie religiose ma di diversa religione eh beh certo non hanno l'insegnamento della propria religione quindi spesso ho sentito anche di islamici che dicono ah meglio che seguano quell'ora bene o male si parla di Dio di religione vabbè però in ogni caso rimane una materia di tipo confessionale basti pensare che i docenti sono formati all'interno di istituti esclusivamente controllati dalla chiesa per seguire quel curriculum devono essere cattolici cioè non si devono limitare a studiare devono anche professare il cattolicesimo e comportarsi in coerenza con i precetti del cattolicesimo poi per ad esempio non vengono mai valutati questi docenti cioè decina di anni fa no anzi ormai anche ben più una quindicina di anni fa ci fu un concorso per stabilizzare i docenti di religione però in questo concorso molti non lo sanno ma è accessibile a tutti il bando del concorso i candidati non venivano interrogati sulla materia che si riproponevano di insegnare che è una cosa strana perché se vuoi insegnare matematica devi portare tutta la matematica insomma dalla geometria euclidea al calcolo differenziale eccetera se devi insegnare storia devi sapere tutta la storia dalle civiltà antiche fino ai giorni nostri invece se devi insegnare religione non devi portare nessun programma su cosa venivano interrogati questi candidati solo su qualche nozione di pedagogia e di legislazione scolastica che erano contenuti che comunque dovevano sapere anche i docenti delle altre materie e uno dice ma allora come si fa a sapere se sono pronti vabbè hanno il titolo di studio però anche i docenti delle altre materie no in realtà c'è un'altra autorità che è chiamata a stabilire se queste persone sono in grado di insegnare e chi è questa autorità il vescovo cioè il vescovo che dà il nullaosta il come si chiama che che riconosce l'idoneità all'insegnamento della religione e lui che dice chi deve andare a insegnare qua o là cioè che è anche un po' strano cioè gli uffici del ministero dicono ci serve un insegnante di religione in questo liceo e il vescovo dice chi ci manda è lui a decidere quindi non ci sono pubbliche graduatorie o selezioni o concorsi è il vescovo che decide chi mandare e il vescovo ha anche il diritto di togliere l'idonità uno potrebbe dire perché uno insegna male perché non fa il suo lavoro anche per questo ci mancherebbe però tra le possibili motivazioni per cui ti può essere revocata l'idonità anche se tu sei un bravissimo insegnante magari fai bellissime lezioni è vero che conosci la storia dell'arte della musica parli di tutte queste cose spieghi cos'è la religione eccetera però magari si scopre che sei gay magari sei omosessuale convivi con un uomo oppure anche convivi con una donna però con cui non sei sposato oppure ti sei lasciato scappare delle opinioni su argomenti su cui la chiesa la pensa in modo un po' diverso da te rischi di di venirti revocata l'idonità quindi non il vescovo si occupa anche di vigilare sulla tua vita potremmo dire la tua vita privata certo il vescovo può appigliarsi su cose che in qualche maniera sono diventate pubbliche ovviamente quello che fai nel segreto della tua vita privata non lo sa neanche lui ma non si deve creare nessuno scandalo quindi ad esempio se sei divorziato e vivi con un'altra con un'altra donna o viceversa a seconda dei sessi poi non parliamo se il sesso è lo stesso oppure anche se ti sei risposato civilmente ovviamente se non sei passato per la sacra rota è sempre valido il vecchio matrimonio quindi devi essere casto se proprio ti sei separato dal coniuge insomma tutti quei comportamenti che per la chiesa sono sanzionabili dal punto di vista della morale del dogma eccetera se si scopre che hai assunto questi comportamenti o questi atteggiamenti o anche hai espresso opinioni in tal senso rischi di perdere il tuo incarico non so se chi è ho letto recentemente che anche ho letto sui giornali che per stare all'università cattolica veniva affermato che erano necessari dei requisiti di base di moralità io credo che siano poco applicati conosco persone che che studiano e anche che insegnano all'università cattolica una ha partecipato ad un'iniziativa promossa da Arciate alla Casa della Cultura e ha portato delle spiegazioni dei ragionamenti degli interventi estremamente interessanti però se si applicassero rigidamente i principi indicati in quell'articolo dovrebbe esserci appunto un controllore occhiuto che va a guardare a controllare la moralità di di chi insegna ma anche di chi studia l'università cattolica che insomma sì secondo me il meccanismo reale appunto ovviamente non è che ci sia una sezione spionistica nella diocese speriamo di no penso assolutamente no succederà più che altro che al vescovo gli arriva la lettera e dice ma guarda che tizio insegna religione e l'ho visto abbracciato con un uomo allora lì potrebbe nascere l'indagine allora magari il vescovo convoca questa tale persona se questa come dire mette fine a queste ambiguità a queste frequentazioni magari il vescovo è anche clemente lo lascia al suo posto se però vede che invece questo insiste non prende la retta via allora certo gli dice no allora tu non dai il buon esempio uno potrebbe dire ma chi se ne frega magari uno è un bravo insegnante ma questo da un lato lo dico anch'io cioè nel senso che appunto uno dovrebbe essere valutato per quello che fa in classe poi fuori può essere anche un assassino se ne occuperà la magistratura e la polizia però fino a prova contraria non è non è certo la scuola a imbastire dei processi e quindi anche se dovesse fare delle cose assolutamente negative ovviamente per il cattolico sono negativi anche questi comportamenti che invece sono leciti per la legge uno potrebbe dire dovrebbe continuare a insegnare sì ma questo appunto non è così no ma e poi c'è il problema che non c'è libertà di insegnamento cioè è anche la nostra costituzione che stabilisce che l'insegnamento è libero è libera la ricerca quindi ovvio che libera la ricerca non può voler dire che il docente di storia dice che i campi di concentramento non sono mai esistiti però voglio dire a livello teorico uno storico potrebbe anche ipotizzare questa 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 eventualità solo che poi lo deve dimostrare in sede storiografica portando delle documentazioni ovviamente quello che ho detto è un'assurdità è una bestemme in senso laico perché ovviamente la questione è stata ultra sviscerata e ultra documentata però voglio dire in teoria si può discutere di tutto ovviamente non è a scuola che si faccia ricerca su questi argomenti su questi o altri argomenti e si possa sovvertire si possano sovvertire i risultati della ricerca specialistica però appunto uno comunque può fare delle scelte può esprimere delle opinioni insomma entro certi ambiti ha una certa libertà invece nel caso della religione cattolica devi presentare per veri questi contenuti che quindi non sono semplicemente oggettivi e storici ci devi aderire e devi testimoniare con la tua stessa vita che ci aderisci cioè è un po' come se per insegnare non lo so la storia del comunismo il docente dovesse essere comunista e fosse sorvegliato non lo so dal com interno che non esiste più oppure per insegnare fascismo deve non so Casa Pound vaglia se dice delle cose che piacciono ai fascisti non so mi sembra una cosa simile ma anche cose più neutre voglio dire un po' come se in storia dell'arte dovessi aderire per forza una corrente artistica o cioè sarebbe meno grave secondo me però però in ogni caso appunto al docente viene tolta la libertà di opinione la libertà di insegnamento la libertà di ricerca anche perché uno potrebbe anche in buona fede aver seguito questi studi religiosi negli istituti cattolici professarsi cattolico entrare intraprendere questa strada insegnare religioni a scuola poi magari come capita può cambiare idea magari abbraccia un'altra opinione religiosa cambia religione o diventa non credente può succedere cioè come un docente di un'altra materia può cambiare idea su questioni sulle quali è plausibile cambiare idea voglio dire senza dire delle assolute assurdità invece se insegni religione non lo devi fare ovviamente se ti capita una crisi di questo tipo devi anche stare attento perché rischi di finire disoccupato insomma c'è anche questo problema qui quindi lo dico anche non è che finisci disoccupato c'è il vescovo che ti toglie come si chiama l'autorizzazione cioè non ti autorizza più insegnare religione ma se sei stato assunto dalla scuola rimani a carico del sistema scolastico nazionale e il vescovo può nominare un'altra un'altra persona no? mi pare il caso che diciamo quello è il caso di quelli che sono entrati di ruolo adesso infatti mentre prima ne parlavo stavo cercando di ricordare mi pare che il primo e unico concorso di questo tipo sia stato nel 2004 quindi io dicevo dieci anni quindici ne sono passati anche di più infatti questi docenti di religione scalciano dicono ma insomma non si fa il nostro concorso sono tantissimi anni che non si fa ma poi quando in realtà il ministero ha cercato di farlo in gran parte erano contrari perché avevano paura di una selezione alternativa a quella del vescovo però è vero quello che dicevi tu cioè l'unica volta in cui si è fatto mi pare appunto fosse il 2004 c'era stata un'informata almeno mi pare metà di quelli che insegnavano religione in tutta Italia sono diventati di ruolo perché per fare il concorso mi pare fosse necessario qualche anno di precariato due o tre anni anche perché ci sono quelle norme europee che valgono per tutti i lavoratori per cui se lo Stato ti ha fatto dei contratti a tempo determinato per tre anni mi pare ti dovrebbe cioè anche comprensibile dal punto di vista dei lavoratori ci mancherebbe ti dovrebbe stabilizzare perché se ti ha richiamato tante volte di seguito continuativamente vuol dire che ha bisogno di te vuol dire che ti ritiene in grado di fare quel lavoro e allora ti dovrebbe stabilizzare mi pare fosse un concorso anche quello comunque adesso di nuovo si parlava di nuovo di una eventualità del genere fatto sta che quelli che erano diventati di ruolo nel 2004 come dicevi tu a quel punto diventavano dipendenti stabili dello Stato perché ovviamente l'insegnante di religione è formato è designato è controllato dal clero però lo stipendio lo prende dallo Stato cosa succede? che appunto se il vescovo ti revoca l'idoneità tu non puoi più insegnare religione però sei un dipendente dello Stato e sei nell'organico di quella scuola quindi la scuola prima di mandarti via di licenziarti proprio dovrebbe fare di tutto per trovarti un altro posto siccome adesso c'è ad esempio l'organico di potenziamento per cui nelle scuole c'è un personale un po' diciamo superiore alle strette necessità magari un docente del genere viene usato per fare delle supplenze oppure per fare altre attività non so se possa essere messo anche negli uffici non lo so questo comunque rimane a disposizione della scuola magari segue dei progetti poi se ha un'altra laurea facilissimo che lo mettano a insegnare un'altra materia e scavalca ovviamente quelli che sono nella relativa graduatoria perché questo ovviamente è un piede già dentro la scuola è già dipendente a tempo indeterminato magari è nell'organico di fatto della scuola e credo che facilmente viene lui prima di qualsiasi supplente su quello non avrei grossi dubbi però per fortuna questo fenomeno ripeto si è verificato solo una volta anche se proprio in questi ultimi anni si parlava eventualmente di un nuovo concorso però i docenti di religione in realtà avevano paura perché se il concorso è minimamente selettivo molti anche che sono quelli che vorrebbero essere assunti perché sono precari da tempo rischierebbero di non passarlo evidentemente nonostante la loro esperienza non confidano molto sulle loro conoscenze conoscenze nel senso della materia non conoscenza delle persone che ti possono che ti possono dare una spintarella e poi sì forse anche da parte delle gerarchie c'è il timore che comunque venga formulato in maniera tale per cui la valutazione non sia di completa competenza del vescovo ma in qualche maniera anche la scuola si organizzi per valiare le competenze di questi studenti di questi docenti si rischia insomma un po' un cortocircuito non c'è grande sì da un lato si vorrebbe essere stabilizzati ma magari con una roba pro forma insomma se hai fatto almeno tre anni di precariato ti facciamo un corso concorso dove sei sicuro di passare diciamo il concorso selettivo non viene visto positivamente da questi ambienti c'è Nello che intende intervenire attiva il microfono Nello in basso a sinistra ecco ok mi sentite? benissimo allora buonasera ciao a tutti molto interessante la disquisizione di Andrea sulla sulla correttezza o etica della scelta dei docenti di religione però devo dire che io forse vedo che siamo in pochi e sono abituato naturalmente come tutti voi immagino essere sempre tra i pochi devo dire che vorrei essere più poco tra i pochi cioè dirò qualche cosa che probabilmente non è molto popolare a me che il docente di religione debba non essere divorziato o non essere omosessuale sta benissimo perché lo trovo un principio di coerenza diva Dio sarebbe il caso di dire una volta in cui i religiosi si comportano per una volta secondo la loro stessa dottrina quindi secondo me invece la cosa che mi fa arrabbiare non è tanto la prevaricazione del vescovo sui titoli cioè l'ignorare i titoli e andare a valutare la vita privata o le scelte personali di questa gente non è questo il punto questo ripeto lo trovo anzi segue a mio avviso un principio di coerenza la cosa importante invece è che non ci dovrebbero proprio essere dei docenti confessionali perché se ci sono dei docenti confessionali ripeto trovo corretto che debbano aderire alla confessione che debbano insegnare il punto invece è che io probabilmente forse sono troppo vecchio ma mi ricordo che quando avevo i bambini piccoli con le sonero e via dicendo ero più informato ora forse sono appunto anche arrugginito dal punto di vista legislativo però mi ricordo che nel 94 se non erro c'è stata una sentenza del Tar Emilia Romagna che era applicata in tutta Italia per cui era vietato comunque nonostante l'insegnamento della religione cattolica a scuola era vietato lo svolgimento di atti di culto questa era una norma che non so dalle vostre parti io vi parlo da Ragusa qui non è stata praticamente mai applicata qui si è continuato bellamente a infischiarsene facendo i progetti pasquali la messa dentro la scuola dentro gli uffici si fa vengono invitati i dirigenti di tutti gli uffici pubblici in prefettura per fare appunto per la messa pasquale o per la messa di Natale e via dicendo quindi questa faccenda del non so che cosa si è sfuggito a me o che cosa si è scappato di mano al legislatore visto anche il degrado valoriale che ci insegue quotidianamente però penso che dal 94 a oggi qualcosa sia uscito un po' dalle righe se appunto nel 94 il Tarremiglia Romagna aveva dettato questa norma e oggi siamo ancora qui a discutere del del catechismo a scuola perché come diceva Andrea io condivido perfettamente se si certasse dell'insegnamento di religioni in senso lato sarebbe un elemento positivo per tutti immagino io non avrei mai esonerato i miei figli da un insegnamento di religione inteso come studio di quel aspetto della cultura della civiltà delle civiltà umane di varia provenienza e mi raccontava una mia amica inglese che quando lei faceva religione a scuola un anno aveva un Sikh un anno aveva un imam un altro anno cioè quello allora era veramente un arricchimento culturale sotto il profilo antropologico insomma delle varie ognuno portava la sua esperienza ognuno raccontava la sua quello che invece facciamo noi è cosa totalmente diversa e appunto mi dispiace molto constatare che passano gli anni ma la prevaricazione l'arroganza della chiesa cattolica è sempre la stessa nonostante il buon marketing dell'attuale Papa sì io sulla prima parte di quello che hai detto sono assolutamente d'accordo ma appunto io perché lo dicevo lo dicevo perché appunto abbiamo intitolato questo incontro che cosa non è l'insegnamento della religione cattolica perché quelli che difendono questo insegnamento tacciano sempre questo punto fondamentale cioè che non è appunto un insegnamento neutrale oggettivo del fenomeno religioso magari anche mettendo giustamente un particolare accento alla storia del cristianesimo che ha permeato di più la nostra storia è ovvio che anche quando studiamo storia o letteratura studiamo prevalentemente la letteratura italiana e la storia italiana europea ci mancherebbe però almeno farlo in maniera oggettiva scientifica nel senso delle scienze di questo settore delle scienze delle religioni non delle presunte scienze religiose ispirate da Dio quindi voglio dire se fosse veramente un insegnamento di quel tipo non avrebbe senso andare a indagare la testimonianza personale dell'insegnante magari addirittura nella sua vita privata invece come dici tu siccome non è quel tipo di insegnamento ma è un insegnamento confessionale il docente deve essere assolutamente cattolico e deve testimoniare questa cattolicità non solo con quello che dice per cui non può dire la chiesa dice questo ma io su questo avrei un'altra opinione no deve dire è così e io ci credo e poi anche comportarsi di conseguenza tu dirai è coerenza certo se l'insegnamento di questo tipo è come aspettarsi da un prete o da una sfora un comportamento coerente a quello che predica sarebbe il minimo certo ci mancherebbe qui non parliamo di sacerdoti o meglio ci sono anche insegnanti sacerdoti ma non è un requisito essenziale anzi con gli anni si sono aumentati i docenti laici tra virgolette cioè non sacerdoti e neanche monaci o monache o suore però certo se è un insegnamento confessionale è anche ragionevole che il vescovo si aspetti questo tipo di comportamento no sulla seconda parte invece non sono ferratissimo in campo normativo so che su questa questione delle attività religiose a scuola ci sono stati tanti tanti casi andando a cercare su internet che sicuramente si trovano ormai con facilità tutte le documentazioni adesso la situazione ufficiale qual è? c'erano state tendenze un po' più laiche tendenze meno laiche adesso si è trovata un po' questa via di mezzo che è la seguente a scuola durante l'orario scolastico non si possono svolgere attività di tipo religioso quindi non si possono fare preghiere non si possono fare benedizioni tutte queste cose sono vietate durante l'orario scolastico allora cosa fanno certe scuole per aggirare questo divieto ad esempio in occasione di festività religiose fanno finire prima le lezioni così l'ultima ora la usano per fare una messa però non è obbligatoria perché a quel punto le lezioni sono finite e gli studenti possono andare a casa chi vuole seguire non segue e chi vuole seguire segue è un po' un trucchetto però un paletto almeno è stato messo cioè durante le ore di religione quindi non può succedere che tu stai seguendo una lezione bussano alla porta e il vescovo che ti benedice che no quello non si può fare oppure interrompere le lezioni per fare una messa robe di questo tipo sono assolutamente vietate quindi se qualcuno le fa lo si può assolutamente denunciare è sicuramente un illecito poi ci sono magari vie di mezzo del tipo scuole che organizzano un incontro col vescovo allora quello viene interpretato come un incontro culturale alle classi anche quelli che non seguono religione vengono invitati a incontrare il vescovo perché comunque è una personalità della città e allora niente cioè secondo me questo sarebbe minimamente più plausibile se almeno il vescovo fosse invitato appunto come una persona competente nel suo settore quindi in questo caso della chiesa che è anche una realtà sociale ma se si proponesse in questi termini fosse possibile fargli qualsiasi domanda discutere delle cose che dice invece in genere queste persone vengono chiamate un po' a pontificare per cui fanno il loro predicozzo magari non benedicono e non fanno non fanno preghiere almeno spero perché sarebbe vietato quindi parlano così però non c'è nessun contraddittorio non c'è nessun pluralismo perché si invita solo il vescovo e non si invitano altre autorità religiose poi non potrebbe dire ma dobbiamo perdere delle ore di scuola per questi incontri sono d'accordo cioè a quel punto potresti invitare non lo so anzi il prefetto avrebbe cose magari più interessanti da dire cioè potresti invitare tante persone il sindaco non so allora perché non fare i quattro chiacchiere col sindaco anzi quella è sicuramente una figura di riferimento per tutti invece il vescovo sarà importantissimo per il cattolico ma altri potrebbero dire a me non rappresenta nessuno perché lo deve seguire però sì ad esempio l'incontro col vescovo se così in termini di chiacchiera diciamo adesso la metto così quello è permesso diciamo sicuramente non si possono fare pratiche di tipo religioso ripeto non messe non preghiere non benedizioni riti quello sicuramente no magari in alcuni casi è un po' difficile trovare il paletto proprio la però sì sicuramente quelle attività sono fuori dall'orario scolastico infatti alcune scuole intelligentemente lo fanno al limite di pomeriggio o un giorno in cui la scuola è chiusa alcuni fanno un po' i furbi appunto tolgono l'ultima ora e ci piazzano lì la messa oppure cercano di intercalarla in maniera da creare una continuità anche dove invece la normativa prevederebbe di separare bene le cose però se non è in orario scolastico effettivamente si può fare che io sappia per la normativa poi non sto dicendo che io sia d'accordo io sarei stato più drastico però appunto è la mia opinione che io sappia adesso che questa è la situazione normativa sì questo dipende dal clima politico ah c'è Donatella che vuole intervenire Donatella attiva il microfono Donatella basso a sinistra allora intanto che Donatella trova il microfono Duccio se vuoi intervenire tu mi sentite? ah sì Donatella prima vai Donatella ciao salve a tutti io non non sono molto pratica sinceramente è la prima volta che mi connetto sarò sicuramente ti abbiamo perso non ti sentiamo ogni tanto si rispegne il microfono lo devi riattivare è rosso Donatella Donatella in basso a sinistra perché se lo stacchi poi ti conviene spostare ecco ok sono qua mi sentite? sì sì benissimo volevo semplicemente prima che l'audio vada via dare una testimonianza da insegnante di scuola primaria io insegno in una scuola primaria di Ragusa sono una persona che ha il suo credo ok sembrerò sicuramente una persona forse attualmente disconnessa non a livello di internet ma mentale però nonostante abbia il mio credo sono fermamente convinta che la religione cattolica all'interno delle scuole non dovrebbe essere praticata io la vivo ogni giorno vivo questa realtà ogni giorno posso dire che è un effettivo duplicato del catechismo che poi i miei alunni il pomeriggio vanno a seguire in chiesa quindi come insegnante pensavo che l'insegnamento della religione cattolica significasse qualcos'altro a scuola mi ho preso coscienza ultimamente ho notato che invece non è altro che catechismo mi ricollego a ciò che dicevate poco prima cioè il non effettuare culto religioso all'interno delle scuole per fortuna nella mia scuola non so se è una mosca bianca non si effettua più culto religioso da parecchi anni da più di 15 anni da quando io sono in questa scuola qui non si fanno più precetti pasquali non si ricevano più visite da parte di preti o vescovi perché si pensa che sia più giusto rispettare il credo religioso di ciascun bambino presente all'interno della scuola con mia grande gioia noto che le attività alternative vengono attivate e nel momento in cui una famiglia decide che il proprio bambino non debba seguire l'ora di religione la presidenza si attiva perché ci sia un insegnante che aiuti i bambini perché dire aiuti non è giusto perché dia loro il diritto di seguire altre attività che secondo me sono molto più valide perché mirano allo studio sul strategico non so per trovare la pace nel mondo si parla di raccolta differenziata si parla del rispetto dell'ambiente e quant'altro la cosa che mi ha colpito ecco volevo dirla in un periodo un po' critico che i bimbi stanno vivendo e avete sicuramente capito bene cioè la guerra quello che insomma i bambini ha scioccato tantissimo in questi giorni le notizie che si sentono al telegiornale mi sono ritrovata io da insegnante di italiano a supportare i bambini parlarne e speravo che l'insegnante di religione effettuasse delle lezioni che mirassero più sul rispetto del prossimo sulla pace intesa come un concetto universale e mi sono ritrovata a trovare sul registro elettronico le classiche lezioni da catechismo quindi da un lato ecco il vescovo non entra a scuola non si fanno precetti pasquali non ci sono crocefisti in classe su questo sono d'accordo dall'altro però l'insegnante di religione continua costantemente ad effettuare le sue lezioni di catechismo allora se la religione cattolica all'interno della scuola deve significare questo io sono contraria da insegnante ecco lo dico da insegnante bisognerebbe invece di formulare il tutto perché i bambini potessero avere una visione più chiara di tutte quelle che sono le religioni all'interno del nostro pianeta per un rispetto non si può parlare di rispetto dell'essere umano se prima non entriamo in contatto con i vari credi di tutti i bimbi che ci possono essere all'interno del mondo ecco questo era il mio intervento sono riuscita a farmi sentire vi ringrazio per avermi ascoltato grazie a te Donatella Duccio puoi intervenire posso dire una cosa rapida su questo intervento dalla primaria mi erano arrivate delle testimonianze così attraverso devo dire più dalla famiglia cioè persone appunto che conosco per ragioni di parente qualcuno che insegna alla primaria in alcune scuole un po' diciamo di provincia diciamo in Sardegna perché come sentite dal mio accento io sono di origine sarda e mi hanno detto che molte di queste scuole all'inizio delle lezioni si fa ancora la preghiera ovviamente è una cosa assolutamente vietata però evidentemente c'è un clima di connivenza tale che ci sono delle scuole dove le maestre iniziano le lezioni facendo la preghiera fanno anche la preghiera mi pare nella mensa prima di mangiare mi hanno raccontato cose di questo tipo parlando di questi anni non sto parlando di tempi remoti sto parlando di persone che me le hanno raccontate negli ultimi anni quindi capitano ancora queste cose che sono assolutamente vietate non si dovrebbero fare quindi Donatella sei abbastanza fortunato va bene Lucio quando vuoi grazie volevo sottolineare un aspetto che ha illustrato Andrea Zeni considerando una sotto insieme estremamente ridotto dell'universo delle insegnanti degli insegnanti di religione cattolica che è costituito da quelle pochissime persone che fanno questo mestiere che io frequento e queste persone sono convinte di dover di non dover divulgare il loro pensiero ma di doversi attenere ma di percepire uno stipendio proprio per attenersi ai dettami clericali assolutamente convinte e convinte anche in termini di reddito che producono e che quindi poi percepiscono grazie certo posso? saranno consapevoli sapranno che altrimenti appunto perdono il reddito come dicevamo poi non so non so se sono convinti anche nel senso che gli sembra normale è che un docente debba essere vincolato circa le sue opinioni cioè ovviamente io non è che venga pagato non è che lo Stato mi paghe lo stipendio per andare a scuola a raccontare cosa penso di questo di quello però voglio dire normalmente esiste la libertà di insegnamento e invece e poi appunto non devo aderire all'oggetto che tratto cioè appunto il docente di storia dell'arte non deve essere necessariamente un estimatore di quell'artista o il docente di storia essere dell'ideologia politica del protagonista delle vicende che sta raccontando cioè è un po' questo che volevo dire va bene prego sì scusa no io volevo così molto brevemente in aggiunta a quello che dice Duccio dire che praticamente siamo tornati all'origine del mio primo intervento e cioè io capisco bene che gli insegnanti scelti dal vescovo si sentano perfettamente in dovere di avere la missione di fare catechismo a scuola perché è per quello che sono pagati cioè questo è corretto non mi non mi scandalizza affatto lo trovo veramente lineare cioè logico e lineare il problema è che non ci dovrebbe essere un insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica di uno stato laico perché il peccato originale è proprio quello una volta che tu metti una materia che si chiama una disciplina che si chiama IRC dentro la scuola pubblica è chiaro che poi devi fare religione cattolica e devi essere non essere omosessuale non essere divorziato non aver abortito e devi fare il catechismo ma queste sono tutte conseguenze del peccato originale iniziale cioè dovrebbe essere buttata fuori cioè chi vuole fare il catechismo se lo vada a fare dove vuole può andare in seminario può fare quello che Carlo lo vuole ma non nella scuola pubblica di uno stato sedicente laico no ma infatti noi stiamo ragionando come dire per illustrare i contenuti ma il discorso di fondo quello che abbiamo un concordato che viola proprio la laicità dello stato adesso per fortuna la nostra costituzione è stata interpretata in senso laico ma resta questo vulnus perché è una evidente incongruenza che solo la persistenza di posizioni di potere spiegano che si va davanti ancora con con questo sistema d'altra parte come facevate notare quando poi si adotta uno schema come ci insegna la psicologia cognitiva si formano degli habitus c'è una logica interna a quello che si fa per cui se non si mette in discussione il presupposto poi diventa diventa normale a parte le strumentalizzazioni politiche i sindaci che durante la pandemia accendono i ceri alla Madonna per proteggersi dalla pandemia o che favoriscono che a scuola nonostante i divieti ci siano le benedizioni le messe e quant'altro io volevo portarvi ormai dovremmo avviarci verso la conclusione per non farla troppo lunga un piccolo esempio che è di fuori della scuola ma credo che sia significativo io faccio parte anche del gruppo nazionale per la stanza del silenzio che promuove che negli ospedali nelle carceri negli aeroporti nelle stazioni eccetera ci siano dei luoghi non connotati per una particolare religione spogli che consentano a tutti di pregare o di raccogliersi anche un ateo come me se ha bisogno di un momento di raccoglimento perché magari in ospedale è andato a incontrare una persona cara e è rimasto turbato eccetera eccetera è opportuno che abbia un luogo per esprimere la propria spiritualità che sia immanente o trascendente a seconda delle proprie convinzioni ecco quello quella è una strada interculturale che non nega che esista una spiritualità e esista una spiritualità anche tra gli agnostici e gli atei e tante spiritualità delle diverse confessioni religiose ma evita di dare da un lato il monopolio a una confessione religiosa dall'altro di moltiplicare la cappella delle varie confessioni protestanti o la piccola moschea per gli islamici o il tempio per gli induisti eccetera eccetera è un luogo interculturale un dispositivo interculturale che insegna anche a tutti noi che si può stare insieme nel rispetto reciproco qual è l'equivalente a scuola di un dispositivo di questo tipo che si studi criticamente anche la religione ovviamente ma non che ci sia una confessione che abbia uno uno statuto privilegiato per insegnarla chi vuole va nella madrassa all'oratorio dove ritiene e si fa tutti i catechismi che ritiene la scuola deve fornire pensiero pensiero critico anche sulle religioni perché no ma appunto con atteggiamento scientifico che diceva Andrea ecco io direi vista allora che se ci sono altri interventi di intervenire per poi lasciare ad Andrea spazio per un ultimo intervento noi ci ritroveremo e se non ricordo a memoria la data tra qualche settimana per discutere più dell'aspetto pratico come intervenire come gestire la questione dell'ora di religione cattolica a scuola e poi un terzo incontro dove vorremmo fare un discorso ancora più in generale sulle scuole paritarie su principi di sussidiarietà che rischia di favorire appunto la privatizzazione della scuola pubblica eccetera eccetera se non c'è nessuno che vuole intervenire ancora darei la parola ad Andrea per avviarci verso la conclusione di questa serata non vedo nessuno Andrea sì adesso non è che mi fossi preparato a qualche discorso conclusivo però sentendo quello che si diceva ultimamente mi è venuto in mente che appunto uno dice cosa ci fanno questi personaggi a scuola volevo fare presente che da quel che vedo ogni occasione è buona invece per questi personaggi per inserirsi anche in altri settori ad esempio prima dicevamo di quelli stabilizzati quelli ad esempio stabilizzati una volta diventati docenti di ruolo hanno potuto fare qualcuno l'ha fatto anche concorsi per diventare presidi quindi abbiamo avuto presidi che il cui curriculum è stato deciso dall'autorità vescovile poi è vero che per fare il preside devi fare il concorso almeno la normativa eccetera te la devi studiare però insomma questi hanno avuto questa opportunità per sostanzialmente perché avevano la raccomandazione del vescovo quindi ovviamente anche in queste carriere questo questo inserimento forzoso di personale scelto dal vescovo stravolge le normali proporzioni che ci sono in società tra le persone credenti e non credenti tra quelle laiche e quelle confessionali cioè ovviamente una volta che uno diventa preside non ha questo vincolo diretto col vescovo perché il vescovo non è che ti può decadere da preside però comunque è una persona che viene da quel percorso lì e comunque anche a scuola spesso questi docenti hanno altri incarichi di altro tipo cioè il docente di religione può fare il collaboratore del preside può occuparsi di progetti quindi non pensate che il suo intervento sia limitato soltanto a quelle ore che almeno hanno espressamente la denominazione di religione cattolica e chi vuole capire capisce no spesso si occupano anche di altre cosette e siccome la loro materia come dicevo non è che abbia un grosso programma da svolgere o chissà quali controlli da parte dell'autorità della scuola circa lo svolgimento dei programmi ovviamente sono persone che hanno anche un po' più tempo e energia per occuparsi di altre cose quindi le ritroviamo in altri settori ad esempio un'altra cosa di cui forse ce l'avamo detti che avremmo parlato le prossime volte è stata ultimamente questa faccenda dell'educazione civica siccome è stata introdotta è stato reintrodotto questo insegnamento di educazione civica e se ne devono occupare tutti gli insegnanti e la legge non ha precisato la sorte di quelli di religione succede che i docenti di religione somministrano in alcune scuole poi le scuole hanno un po' scelto ognuna come ha voluto però spesso ci sono i docenti di religione che propinano una parte del programma lo spacciano per educazione civica e in alcune scuole anche gli studenti non avvalentisi sono obbligati a seguire queste lezioni dell'insegnante di religione perché alcuni contenuti li spaccia per educazione civica e in educazione civica questi docenti possono anche mettere un voto cioè alle superiori mettono un voto proprio in decimi mentre normalmente non possono perché possono solo dare dei giudizi che non fanno media e che non influiscono nel curriculum dello studente quindi ogni occasione è buona per allargarsi cioè li trovi in qualsiasi appena si rende libero uno spazio siccome il ministero spesso non si cura di mettere dei paletti di esplicitare che certe cose quel docente non le potrebbe fare e allora siccome è docente anche lui finisce per farle e poi sicuramente anche il ministero ci mancherebbe ci sono dei contatti per cui assecondano da poco per dirvene un'altra ma proprio questi ultimi giorni sarà passata al massimo la settimana c'è stato Ruscica che è il responsabile del sindacato dei docenti di religione che ha proposto e gli hanno dato grande spazio nelle testate della scuola che dicevo ha proposto di passare da un'ora di religione alle scuole superiori a due ore perché dice che appunto la materia è così arricchisce così tanto la cultura che si dovrebbe ovviamente è stata una sua sparata però normalmente ci sarebbe insomma qualcuno gli avrebbe dovuto rispondere io forse in quell'occasione non avevo tempo per scrivere la lettera però veramente ogni tanto si sentono le assurdità più incredibili nessuno obietta che si tratta di assurdità e poi un'altra manovra adesso mentre parlo me ne vengono in mente varie me le sarei dovute insegnare un'altra manovra un po' stranina che c'era stata in Parlamento c'era stato un tentativo di fare in modo che gli esami dati in scienze religiose potessero valere per il corso di scienze delle religioni sono due indirizzi completamente diversi anche se hanno il nome simile cioè le facoltà di scienze religiose attenzione scienze religiose ovviamente è uno simoro nell'università normale le scienze religiose esistono soltanto negli insegnamenti confezionali che sono finalizzati a preparare i docenti di religione invece le scienze della religione esistono cioè ci sono facoltà umanistiche dove si studia come dicevo la storia delle religioni l'antropologia della religione la psicologia della religione ci sono stati tentativi di rendere riciclabili gli esami da un ramo all'altro e siccome mi pare sia passata una normativa per cui quelli che si laureano in scienze della religione se hanno dato gli esami sufficienti potranno insegnare storia e filosofia c'è il rischio che ci troviamo anche in altre materie come storia filosofia o anche letteratura mi pare un numero spropositato di persone di formazione clericale perché appunto se riesci ad abbreviare la tua carriera universitaria con esami che hai già dato nella scuola del vescovo riesci a inserirti con più facilità in questi altri insegnamenti ovviamente ti devi comunque laureare e eventualmente dare il concorso però insomma sono sempre vie tortuose che fanno sì che nel campo dell'insegnamento hai un numero spropositato di clericali rispetto a quelli che ci sono diciamo nella nostra normale società secolarizzata insomma è sempre un tentativo di occupare diciamo l'ambito dell'insegnamento insomma in alcuni casi ripeto in maniera almeno passando attraverso dei concorsi in altri casi in maniera un po' più tortuosa ma ogni tanto veramente si sentono queste manovre poi appena qualcuno si distrae Zack riescono a infilarsi nei campi più diversi va bene infatti gli argomenti sono tantissimi si potrebbe portare tantissimi casi di in cui questa costante pressione di un clericalismo che non sempre si presenta nelle forme fastidiose del passato ma anche in modo più suodente più accattivante però c'è un tentativo continuo noi come Arciate sosteniamo che c'è bisogno di una militanza laica per affermare la laicità dello Stato questa sera ringraziando Azzeni abbiamo affrontato più l'aspetto dei contenuti nel prossimo incontro che faremo il 25 affronteremo più il tema del come muoversi all'interno della scuola per garantire che ci sia l'ora alternativa per contrastare le manovre le pressioni che puntano appunto a non riconoscere il diritto ad una scuola ad una scuola laica anche in presenza dell'insegnamento della religione cattolica per cui vi ringrazio Azzeni ringrazio adesso mi viene in mente un altro piccolissimo esempio che ho sentito cioè gli insegnanti di religione che fanno i coordinatori di classe che uno chiede cioè com'è possibile con tanti docenti che ci sono proprio quello che fa una materia facoltativa magari anche degli studenti che non si avvalgono del suo insegnamento quindi lui neanche li conosce perché durante le sue lezioni non ci sono proprio a lui viene dato il coordinamento della classe ovviamente da un lato uno potrebbe dire beh anche loro prendono lo stipendio devono fare i lavori degli altri sì però la situazione è assurda perché può essere un docente che non conosce i suoi alunni comunque un docente di una materia così particolare che non valuta che è di tipo confessionale di tipo facoltativo e danno a lui il ruolo di coordinare la classe cioè mi sembra anche quello però anche quello non è vietato per cui a volte capita come diceva prima Nello il difetto sta nell'origine bene io direi grazie a tutti chi vuole può ricollegarsi il giorno 25 quando faremo la seconda puntata di questo miniciclo grazie 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 a tutti